L'iniziativa Lio il potere e le opere che avremo occasione di ascoltare in streaming si rivolge in particolare a operatori delle cooperative social non profit ma anche agli imprenditori e a tutti coloro che sono appassionati anche di politica indipendentemente dallo schieramento al quale appartengono. Che cosa è l'iniziativa Lio il potere e le opere? Raccoglie una serie di interventi di Don Luigi Giussani che dai primi anni Ottanta in poi si è interrogato sul significato della presenza nella società. Quindi non diamo per scontato perché una presenza possa essere rivolta a valorizzare la dignità dell'uomo nelle opere che mette su e in ogni presenza attraverso cui lui partecipa con le azioni che svolge. Quindi ci chiediamo con questa iniziativa di che si tratta. Divisa in tre incontri abbiamo appunto il primo incontro dove ci chiediamo che cosa è Lio la persona che partecipa nella società. Nel secondo affrontiamo il potere ci sarà un intervento dell'ex ministro Cartabia già giudice presidente costituzionale. Nel terzo ci chiediamo quali sono le basi per operare e costruire nel sociale. Il primo appuntamento è il prossimo 20 maggio, questo sabato alle ore 10 presso Mediastaff in piazza Kennedy numero 27. L'ingresso è aperto, libero per tutti. Per informazioni si può mandare una mail a info.chiocciolacdoliguria.org e riguarda tutti, riguarda sia a livello nazionale ma anche locale perché è promosso da realtà che operano a livello locale come appunto il centro culturale Don Alberto Zanini, la compagnia delle opere, il banco alimentare, il banco farmaceutico, Apsi, Portofranco, tutte realtà che operano a livello sociale in cultura, società, terzo settore. E riguarda tutti, riguarda il desiderio di impegnarsi nella realtà con il potere a favore della comunità. Quindi io, potere, opere.